ciao amici benvenuti finalmente che sono riuscito a recuperarlo farò la recensione di strange of paradise fana fantasy origin solo slide che ho riuscito scopriamolo insieme prodotto square enix sviluppato da team ninja gli stessi creatori di neo praticamente lingua giapponese inglese con sottotitoli in italiano disponibile per prestaggio 4 prestaggio 5 xbox one xbox serie x s ovviamente retrocompatibile per prestaggio 5 xbox serie x se avete la versione per prestaggio 4 xbox one support 4k si reitresi attivo no prezzo di lancio che ovviamente adesso lo trovate scontato 49 euro e 90 genera action rpg ovvero un source like trama riporta la luce in un regno invaso dall'oscurità e scopri le tue origini mi fermo qua per evitare spoiler o rovinare i colpi di scena se caso comprate il gioco oppure no comunque evito sempre di spoiler parliamo dalla grafica e già dobbiamo parlare dalla grafica partiamo subito dicendo che come aspetto tecnico si poteva fare di più le abitazioni risultano essere un pochino anonime e non molto dettagliate stessa cosa anche per i personaggi nemici anche se sono di varia tipologia purtroppo non spiccono per un design molto curato le animazioni sono abbastanza discutibili un pochettino legnose insomma ci si aspettava a livello tecnico qualcosa in più buono invece il comparto sonoro con musica tema curato anche i doppiaggi in inglese e giapponese con sottotitoli in italiano e adesso direi da vedere un po come il gameplay sperando che quello almeno sia di buona qualità ci vediamo tra poco eccoci qua con la parte del gameplay il combat system del gioco prende di peso diciamo un pochettino dannio con alcune piccole differenze sostanziali esempio si può scegliere la tipologia di classe che man mano crescerà di livello aumentando l'efficacia il combattimento non solo si potrà anche cambiarle in volta in volta cocatenando praticamente le combo per dar vita a combo devastanti in base alla situazione cioè più nemico è forte più noi faremo combo più recreremo danni veramente enormi poi una volta indebolito potremmo fare una sorta di finish per metterlo al capo definitivamente fin qui direte ok tutto ok sembrerebbe diciamo una cosa bella variegata l'azione di gioco sembrerebbe frenetica sembrerebbe anche divertente sì è vero però c'è un piccolo ma esatto c'è un piccolo ma se da un lato risulta essere divertente ed ha una possibilità di diciamo di cocatenare le le combo di dare vita a mosse meramente devastanti dall'altro lato purtroppo viene fuori un piccolo problema lo slot è disponibile per le tipologie di armi che ognuna di esse avrà delle abilità degli attacchi bonus ad esempio attacchi elementari tipo fuoco a ghiaccio visto che ci sono tanti nemici di varia tipologia alcuni nemici saranno deboli a un determinato tipo di elemento ad esempio se troviamo un nemico debole al fuoco è vero possiamo usare l'arma di fuoco però c'è un piccolo problema avendo un limite di due slot purtroppo ci tocca mettere in pause il gioco cambiare la tipologia di classe cioè dell'arma e ogni volta questa cosa spezza un po il ritmo dell'azione rinedo l'azione un pochettino diciamo accortata non è un difetto grave però se aggiungevano un terzo slot sarebbe stato meglio visto che al volo si può cambiare l'arma velocemente e si può dare vita a delle combo veramente devastanti ma anche spettacolari purtroppo questo piccolo problema di uno slot limitato accorcia un po l'azione di gioco cioè la spezza un pochettino una cosa veramente brutta perché se io in quel momento sto anche per devastare un boss e diciamo appena due classi selezionabili vorrei fare qualcosa di più spettacolare però non è un grave difetto ma purtroppo può far storci un po il naso signore direi da passare adesso alla sintesi del gioco ci vediamo tra poco se consiglio oppure no questo spin off di Final Fantasy devo essere sincero questo gioco qua in realtà dovevo prendere per Pesticcio 5 ma siccome che avevamo già urgenza di portarlo sul canale il mio socio l'ha preso per xbox serie x allora strange of paradise Final Fantasy origine è quello che è uno spin off dalla serie più amata ma anche criticata per certi versi Final Fantasy qui gli sviluppatori di io ovvero team ninja hanno collaborato con square enix per creare questo spin off come action rpg cioè un source like in parte l'esperimento è abbastanza non dico 100% ma un pochettino riuscito non del tutto l'unica cosa che delude e su alcune cose ad esempio su una veste grafica molto ma molto ma molto indietro si poteva fare di più visto le altre produzioni di square enix per quanto riguarda la serie Final Fantasy qui invece va a fare un gioco un po sottotorno per tutte le piattaforme si poteva fare di più non è che brutto ma neanche quel capolavoro che ci si aspettava lato gameplay invece risulta essere divertente frenetico ma per il fatto dei limiti di spazio per quanto riguarda lo slot per l'equipaggiamento spezza un po il ritmo dell'azione il mio consiglio è ovviamente di comprarlo a un prezzo diciamo piuttosto scontato certo 49 euro e 90 magari per alcuni può essere molto magari ciccinino un pochettino in meno tipo 39 o 30 euro andrebbe bene come spin off ci si aspettava qualcosa di più si poteva fare un pochettino di più non brutto neanche un capolavoro abbastanza un buon titolo ecco bene questa è la fine della recensione di strage of paradise fra la fantasy origin fatevi sapere nei commenti la vostra opinione se in caso voi ci avete giocato come vi sembra potrebbe essere anche un'opinione contraria alla nostra noi l'accettiamo anche perché le nostre recensione vogliamo anche consigliarvi ma nello stesso tempo vogliamo sapere anche un vostro punto di vista per offrire ad altri utenti un diciamo maggiori informazioni se acquistare o no il prodotto per il resto vi ringrazio link di iscrizione trovate come sempre le solite informazioni dalla redazione e noi ci vediamo per i prossimi video un saluto da un misterioso da Lady Blue e da vostro amico Bobbe alla prossima